Secondo i dati del governo nel 2021 sono aumentati i casi di persone scomparse. Ci sono casi che hanno scosso l'opinione pubblica come quelli di Denise Pipitone, Angela Celentano o Emanuele Orlandi. Ma sono migliaia nel nostro paese i bambini, le donne e gli uomini svaniti nel nulla, dei quali non si hanno più notizie. Un numero in crescita. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 sono state quasi 8000 le denunce di persone scomparse e di queste solo meno della metà sono state ritrovate. Nei primi sei mesi dell'anno i casi segnalati alle autorità segnano un più 58,8% rispetto al semestre precedente, un dato su cui influisce la fine del lockdown che nello stesso periodo del 2020 aveva costretto le persone a restare in casa. I dati però mostrano un preoccupante incremento del 13,1% anche sul 2019. Lo rileva il prefetto Silvana Riccio, commissario straordinario per il governo per le persone scomparse nella relazione semestrale sul fenomeno che vede le forze dell'ordine sempre più impegnate grazie alle nuove tecnologie. 4.937 i minori scomparsi nel primo semestre di quest'anno. 1.952 sono stati ritrovati, ma è mistero sulla sorte degli altri 2.985. La maggior parte sono migranti che fuggono dai centri di accoglienza, spesso per raggiungere familiari all'estero. Per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, il governo ha realizzato un video istituzionale che invita a denunciare nel più breve tempo possibile per permettere agli investigatori di avviare immediatamente le ricerche.